Credo che è stata una vittoria abbastanza legittima dal punto di vista dei punti, chiamiamola così. Abbiamo secondo me giocato un buon calcio, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo fatto bene tante uscite, tante rotazioni che abbiamo provato in funzione di loro. Quindi questo mi dà ancora più morale per il proseguo del nostro cammino. Ma al contempo sono, come ho detto già loro, non arrabbiato di più. Sono nero, nerissimo per quanto riguarda l'atteggiamento dei primi 15 minuti, più o meno del secondo tempo, dove probabilmente complice 2-0 abbiamo calato un pochino l'attenzione mentale. Questo non possiamo permettercelo. E' pur vero che poi nell'intervallo io ho dato quasi zero correttive tattiche, non ho detto di nulla. Ho battuto solo su questo, il fatto di dover entrare in campo con la mentalità giusta, ancora come abbiamo fatto nel primo tempo. Questa cosa è da rivedere perché non la possiamo accettare per quello che vogliamo essere, per quello che stiamo costruendo di voler essere. Noi spesso siamo belli anche singolarmente, ci specchiamo anche singolarmente, che vogliamo provare a fare l'uno contro uno, a fare il doppio passo. A volte non serve, a volte bisogna andare dritti, bisogna andare forte, bisogna andare a far male. E questo è quello che dobbiamo migliorare un po' tutti, in tutti i reparti. Però, come ha detto il direttore, il processo penso sia evidente. Potevamo anche, secondo me, fare qualche altro gol, anche con i ragazzi che sono entrati, con Castagna, con Peluso, l'azione di Pietro, quando magari l'arbitro poi ha fischiato, anche se poi abbiamo fatto gol. Però, nel complesso di cose, tutti quanti, secondo me, oggi hanno fatto una grande partita, soprattutto di collaborazione, e questa era la prerogativa. Noi ci aspettavamo che loro potessero venire anche un pochino più chiusi, a provare le ripartenze con Gioielli, con De Biase, che hanno comunque dei giocatori in velocità, e ci aspettavamo che potesse essere una partita similaversa, nel senso che dobbiamo gestirla noi dal punto di vista del pallone. Un pochino è stata così, in alcuni momenti non è stata così, e in quei momenti in cui non l'è stata abbiamo avuto più spazi per poter far male.